Sì, saltiamo il numero, diamo il numero 14, Jacopo Trevisani e Fabio rimandi con la Skoda Fabia del Rally Club Brigis, team storico, voi cosa vi aspettate? Sono un paio di anni che sono fermo quindi per me sarà soltanto una gara da prendere con calma per rientrare e riabituarmi un po' ai ritmi di gara, prima volta sull'asfalto con questa macchina quindi vediamo un po' di difenderci e di non fare troppe cavolate Mi riporto il lupo anche a questo che faccio Stavamo dicendo Trevisani e Tribaldi che rientrano dopo un paio di anni qui Fino a quella di Betovo di Albino Grazie a tutti Grazie a tutti Salutevo l'equipaggio numero 14 Formato da Jacopo Trevisani e Fabio Grimaldi Sono nella top 10, sono al nono posto assoluto Va a ricevere la Coppa doverosamente Un tuo commento sulla gara, ti va bene la top 10? Sì, eravamo a rientro dopo un paio di anni di fermo, era la prima volta per me sull'asfalto con questa vettura, con queste gomme Quindi dobbiamo fare un po' di chilometri per metterci un po' al passo Verso fine gara abbiamo approcciato un pochino di stacchi dai primi, quindi siamo soddisfatti, divertiti Volevo ringraziare in primis il rally club di Gisselbino e la GL Motorsport che ci hanno supportato per questa gara e il team Delta Rally che ci ha fornito una macchina che ha funzionato alla perfezione E nei complimenti ti lasciamo la foto, ovviamente l'autorità noi ci spostiamo, la solita trafila, top 10, siamo noni assoluti Mentre si allunga il serpettone delle vetture qui a Talbino, cerchiamo di essere veloci per anticipare poi